Benvenuti, benvenuti nella mia, nella nostra nuovissima Bottega Tech. E volevo già da un po' di tempo presentarvi questo mio nuovo progetto, che è un progetto per me importantissimo, che è quello del primo, il primo Retail Mobile Store, che sorge qui a Lucca in un negozio storico, più di 30 anni di storia che esiste questo negozio con le TLC. E questo nuovo progetto è un progetto sfidantissimo, che però è frutto dell'evoluzione che ha avuto il canale, della bellissima esperienza che ho fatto con la mia grandissima community del canale di iscritti a YouTube. E mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi, perché più di ogni altra volta mi servirà il massimo aiuto da parte di tutti. E volevo appunto presentarvelo con un video. Mi sembrava assolutamente doveroso, lo sto facendo dentro il negozio. In questo momento ci sono pure dei clienti e dalle vetrine di questo negozio mi stanno guardando tutti, mentre sto realizzando questo video. È una bottega tech perché di fatto l'idea è quella di unire il mondo virtuale dei contenuti che creo e che porto appunto su YouTube con il fisico e quindi riuscire a fornire, in questo caso sulla città di Lucca, ma in generale per tutti i cittadini toscani e chiaramente continuerà per tutti i cittadini italiani in Italia, che vivono in Italia, e continuerà appunto il servizio che abbiamo offerto appunto sul canale stesso. In buona sostanza è la stessa identica cosa che faccio con il canale YouTube, dove di fatto io vendo tutti i brand dei smartphone, quindi tutte le case produttrici, avremo la possibilità di offrire tutti i servizi che attualmente il mercato sia della tecnologia che delle telecomunicazioni appunto offre. E il concetto sarà lo stesso di quanto adottato appunto sul canale YouTube. Il fatto che io li possa vendere tutti mi porta a consigliare il servizio migliore, ma migliore per ognuno di voi, per la singola persona. Quindi diciamo questo aspetto consulenziale che sarà per noi fondamentale, che farà parte appunto dell'esperienza. L'esperienza che per me deve essere incredibile, che ognuno di voi deve provare all'interno di questo store, ma è continuare a provare anche con il canale. Questa è la bellezza di fare delle cose in cui fanno parte di te, che sono progetti tuoi. Tutte le mattine svegliarsi con il sorriso sulle labbra, scacciando un po' via tutti quei problemi che la vita ci porta. E questa è una grandissima conquista, soprattutto in un momento difficile come questo. Mi ritengo molto molto fortunato perché oltre a voi che credete in noi, in me e nelle mie persone, vi devo ringraziare soprattutto le mie persone che mi hanno continuato ad appoggiare in un progetto che potrebbe essere rischioso. Però l'hanno fatto con la giusta convinzione e questa cosa mi è piaciuta e mi ha dato tanta spinta. Io sono convinto che avremo tantissimi margini sia di miglioramento che tantissimi margini di soddisfazione. che siamo solamente all'inizio, che ci sarà tanto, tanto da lavorare e che soprattutto voi potrete darmi una mano. Ed è uno scambio alla pari perché come spero che si riesca a dedurre da quanto dico, questo è un servizio in cui voi recitate una parte fondamentale, ma non soltanto perché siete clienti, ma anche perché siete attori principali di tutto questo nuovo movimento che si genererà attorno allo store. Lo store è molto essenziale, poi lo vedrete perché sabato saremo in diretta. Fra l'altro io invito tutti a partecipare. La cosa figa è che avevo fatto realizzare, come promesso, questo grande ricordo di questa maglia e questa maglia la troverete qui, chiunque di voi verrà, parteciperà all'evento e verrà qui dentro, dentro lo store si farà un selfie e taggerà Retain Mobile sui propri social e riceverà una maglia in omaggio. Chiaramente dovete essere iscritti al canale, giusto? Perché dovete far parte di questo clan, di questa fantastica community. Io vi aspetto sabato perché sarà un festone da paura per tutti coloro che ci seguono e sono piuttosto lontani e devo dire siete tanti, realizzeremo una diretta, capisco che è sabato, se vi va, mi raccomando, basta un cuoricino, sostenere, un commentino e siamo contenti. Chiaramente questo sarà un, diciamo, un nuovo inizio, una nuova era che porterà tantissimi, tantissimi nuovi contenuti sul canale YouTube, porterà tantissime nuove promo, promobomba per tutti voi. Chiaramente vi servirà qualche altro tempo perché sto veramente facendo fatica nell'organizzazione di tutto, però abbiate fiducia e il contenuto più importante poi alla fine siete voi che mi avete dato la grossissima opportunità di poter contribuire nel creare questo nuovo progetto. e sapete che a me i nuovi progetti sono uno stimolo incredibile. Noi ci vediamo, io e la mia bottega Tech, vi salutiamo, ciao!